Si è giocata l'ultima giornata nella gironea di eccellenza ed ecco i verdetti. La vittoria del Ponte Bugianese in casa con la Pro Livorno 3-1 ha permesso ai pontigiani di potersi giocare play-out in una gara secca sul campo dell'Atletico Cenaia. Qui si deciderà la permanenza in categoria. Quella con i Livornesi era senza dubbio la partita più difficile della stagione. La squadra bianco-rossa aveva un unico risultato a favore, quello del successo, per non essere poi tenuta fuori dalla forbice dei 10 punti, su cui puntava invece il Cenaia, vincente in casa del Castelfiorentino. Il Ponte è partito bene, visto che dopo un quarto d'ora ha sbloccato il risultato davanti ad un'avversaria che ha cominciato a crescere in quanto a giochi e occasioni e nella ripresa, infatti, ha trovato il pareggio. Poi sono venuti fuori carattere e cuore del Ponte, che ha trovato il 2-1 con Panelli, con il sigillo finale a firma di Nardi, che ha assicurato gli spareggi. Sconfitta del Montecatini in casa del Camaiore, che pesa poco sul campionato dei Bianco Celesti, che avevano già dato, anche se non matematicamente, l'addio ai play-off. La squadra di Marselli ha chiuso la stagione al quinto posto in classifica, vista la sconfitta del Cuoio Pelli contro il Grosseto. Sicuramente molti più stimoli per il Camaiore, che con la vittoria ha centrato la salvezza diretta, visti gli 11 punti di vantaggio dalla penultima, che annulano così la forbice, che consente al Camaiore di evitare gli insidiosi play-out. Nel quadro play-off, il Fucecco chiude al secondo posto, dopo aver vinto con il retrocesso Cecina. Questo vale il proseguo del cammino alla fase nazionale, che prevede semifinale e finali di andata e ritorno, per provare a salire in Serie D. Finisce qua dunque la stagione dei Bianco Celesti. Il Fucecco infatti vola definitivamente agli spareggi nazionali, grazie alla forbice superiore ai 10 punti, che li separa dalla terza in classifica ed evita così i play-off. Ricordiamo che a vincere il campionato è stato il Grosseto già da alcune settimane.